ha finito no no fai no la stai facendo non lo fai facendo ma non lo fai facendo non lo farò per capire la piazza parola parolini ma non mi trovo scopera per la proposta ma anche le vinci a mandare in giallo di città ma di bai aiutare a metodo ma anche ma anche a metà per te o quello calma il mario per me per me non è la prima che è il potere l'epoca c'è una cosa impossibile buonanotte da un'altra cosa la parola la parola la parola è un po' il volino di carriamo la parola e' chiaro un po' albergo di un'ora a perché bene l'ultimo non è un anima e' e per rarri a a a per a a a il l'arrivo 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 no l'arrivo no l'arrivo l'arrivo ma non c'è evitare 5 a te dopo tanto noi hai toccato la porta alberto nata per l'arrivo già la porta c'è l'arrivo che mi chiamava il mito e mi chiamare armi ma non è il mito è una cattola di gioco a farà il prezzo per il primo non è più la carta la carta pagina che cazzo vuoi dire a fare perché la carta mangiare voglio più a fa fa piccoli non è venuto un punto ma la pittata non lo vuole anche il giusto l'arco a alla l la 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 per l'arrivo alberto allora no l'arrivo rarrivo rarrivo